La nuova escalation della guerra commerciale penalizza l'azionario di Piazza Affari, il rosso del 2,41% a 21.046,86 punti, particolarmente presi di mira i titoli di due società fortemente esposte al mercato a stelle e strisce come STM-6,67% e CNH-6,76%, chiusura di settimana sopra i 200 punti base per lo spread con i titoli tedeschi 203,9 PB.